Papa Francesco ci darà una mano sicuramente a parlarne, adesso ci sarà questa enciclica e devo dire che questo Papa aiuta tutti noi a fissare le priorità in maniera molto lucida, ci dice quale sono le priorità, le disuguaglianze, le grandi immigrazioni, il cambiamento climatico, l'ambiente, ci dà la strada, ci dà la road map che noi dovremmo riuscire a fare. Riuscire poi a seguire in qualche modo.